Come sappiamo più dell'80% del commercio mondiale viaggia sulle navi. Ora le sanzioni nei confronti della Russia hanno posto un blocco da parte delle principali compagnie di navigazione all'export e all'import. Per esempio non riceveremo più grano o acciaio, è stato bloccato per la verità soltanto il booking, cioè le prenotazioni, con l'eccezione per i generi strettamente necessari di prima necessità, soprattutto sanitaria e anche su questo aspetto le interpretazioni giuridiche sono differenti. Se i grandi operatori come MSC o MERS che hanno derito al blocco, non così per altri giganti del mare come la cinese COSCO. Sul traffico dei container non penso che ci siano grandi contraccolpi. Paradossalmente si avranno più problemi per le persone che per le merci. Per esempio il 14,5% degli inquipaggi di tutte le navi del mondo è costituito da russi e ucraini, molti dei quali sono comandanti. Ci sono tante navi miste con russi e ucraini. Quando sbarcheranno questi marinai? Potranno ritornare? Le compagnie di crociera hanno già cancellato San Pietroburgo dalle loro rotte, ma il colpo maggiore rischia di averlo alla nautica italiana. La Russia è il secondo mercato dopo gli Stati Uniti per gli yacht in costruzione, mentre quelli già costruiti nei porti europei stanno già andando, hanno già levato le ancore per destinazioni più sicure.